Questo è l'emendamento a firma del Movimento 5 Stelle, depositato ieri in Senato per consentire il risarcimento dei danni che gli agricoltori pugliesi hanno subito per via delle gelate di inizio 2018. Questo, invece, è l'emendamento presentato dalla Lega in Senato con gli stessi obiettivi. Insomma, dopo le proteste dei gilet arancioni, adesso si moltiplicano le attività per consentire ad una parte importante della Puglia di risollevarsi dopo i danni patiti. O forse si cerca di accaparrarsi il merito di un'attività che, originata anche dai ritardi procurati dall'assessorato all'agricoltura della Regione Puglia, arriva comunque in ritardo. Perché le giornate lavorative degli operai, un milione di ore, stimano gli esperti, sono andate e ormai sono irrecuperabili. Senza aver accumulato un minimo di giornate lavorative, molti braccianti avranno difficoltà ad accedere anche ai sussidi di disoccupazione. I parlamentari, senatori in questo caso, dopo aver sonnecchiato per mesi, adesso si esibiscono in una sovrapposizione di attività che ha prodotto due emendamenti praticamente in fotocopia.